Blocco di SafeSearch. Creare un ambiente sicuro per i nostri figli mentre navigano su Internet può essere un compito tutt'altro che facile. È proprio per questo che Google si impegna costantemente a fornire strumenti che ti diano il controllo sui contenuti che desideri vedere mentre navichi, come ad esempio la funzionalità SafeSearch, che ti permette di escludere contenuti sessualmente espliciti dai risultati di ricerca e dalle immagini. Ora, scegliendo le impostazioni di filtraggio massimo, puoi bloccare SafeSearch e impedire che qualcuno modifichi a tua insaputa le preferenze. Bloccare SafeSearch è un'operazione semplice e rapida. Basta avere un nome utente Google e una password. Vediamo come funziona. Sulla home page di Google, fai clic su Impostazioni di ricerca nell'angolo in alto a destra. Scorri in basso fino a filtro SafeSearch e fai clic su Blocca SafeSearch. Se non hai già eseguito l'accesso al tuo account Google, ti verrà chiesto di farlo. Ricorda, facendo clic su Blocca SafeSearch, scegli di impostare il massimo livello di filtraggio. I puntini di caricamento indicano che SafeSearch sta per essere bloccato su tutti i domini Google. Ciò significa che SafeSearch filtrerà i risultati di ricerca, a prescindere dalla lingua e dalla localizzazione del sito Google che stai utilizzando. Se utilizzi più profili sullo stesso computer, dovrai bloccare SafeSearch su ciascun profilo. Dopo aver bloccato SafeSearch, queste sfere colorate verranno visualizzate in alto sulla pagina dei risultati di ricerca e sarà difficile non notarle. Se non le vedi, fai clic su Verifica per bloccare nuovamente SafeSearch. Ricorda, anche se hai bloccato SafeSearch, niente può sostituire la supervisione di un adulto per garantire la sicurezza dei tuoi figli su Internet. Grazie per l'attenzione!